Il sindaco Carlo Moro da settimana hai preso gli incendi a Lentella, situazione più grave ieri? Ieri sera intorno alle 19 sono partiti due focolai, una qui a Lapineta che potete vedere lo spettacolo e un'altra qui a Rirosso della Trignina, su località Coccetta, due fuochi chiaramente che hanno creato molta apprezzione e poi stamattina di nuovo, dopo tanto lavoro di stanotte dei vigili del fuoco e delle squadre di protezione civile, stamattina di nuovo Lapineta in fiamme e praticamente adesso come si può vedere è rimasto solo cenere, tutto è andato a fumo dopo dieci anni dall'ultima volta dell'incendio del 2007, a distanza esattamente di dieci anni, una Lapineta che si era ricostruita, adesso è di nuovo andata in fumo. È difficile parlare di autocombustione? Assolutamente, nessuno mi convincerà mai dell'autocombustione, l'incendio è doloso, tutti i focolai che abbiamo avuto in queste settimane, tutti dolosi e prima o poi qualcuno pagherà per questi danni. Secondo lei un motivo per appiccare questi fuochi? Io credo che sia la mente perversa dell'uomo, perché non si spiega diversamente, non c'è una spiegazione logica a chi si diverte ad incendiare boschi e riserve, non c'è proprio spiegazione, non è logico.